Nel 2023 il valore dei lavori pubblici appaltati in seguita da giudicazione ha segnato un balzo storico, balzo che arriva dopo due anni, il 2022 e il 2021, di record determinati dal PNRR. Secondo lo studio dell'osservatorio sugli appalti pubblici del centro studi e di ricerche con più di 100 soci, il valore dei lavori pubblici ha raggiunto lo scorso anno 91,5 miliardi, segnando un incremento del 54% rispetto al valore degli appalti del 2022. Il numero degli appalti aggiudicati nel 2023 è stato di 7404, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. Ora arriva la prova dei cantieri, della spesa e soprattutto della realizzazione delle opere, perché non è solo la spesa a generare PIL ma è anche e soprattutto l'attivazione e l'uso dell'opera a generare sviluppo e crescita.